buonasera a tutti grazie per essere qui allora il film che state per vedere un'esperienza direi è la storia di wayne un ragazzo che vuole fare l'attore ma che improvvisamente inaspettatamente costretto a rimettere in discussione tutta la sua vita per a causa della morte del padre e di un'eredità che che non si aspetta è qui con noi per presentare il film il regista è un regista e un produttore indipendente canadese che ha una storia molto particolare che ha ricevuto molti riconoscimenti per i suoi cortometraggi e che ha presentato un film un primo film di notevole successo che si titolava the rainbow kid kira paputs allora chiediamo a kira di fare una piccola introduzione al suo film ovviamente non vi racconterà più di tanto ma insomma almeno un po come ti è venuta l'idea di fare questo questo film grazie a tutti for coming out here on a Tuesday night such a great city especially when it's not raining and it's wanted to say this film basically came from some personal experiences of getting older and realizing that I'm turning into my parents a bit and it's kind of a weird feeling and so I wanted to explore the idea of you know do we become our parents and if you don't want to be separate yourselves from that generation buonasera grazie a tutti di di essere qui questo martedì sera grazie al torino film festival di aver selezionato il mio film torino è davvero una città meravigliosa in particolare quando non piove questo film parte da un'esperienza personale che può essere condivisa da molti via via che gli anni passano e ci si scopre in qualche modo simili ai nostri genitori è una strana sensazione dopo esserci a lungo opposti a loro vogliamo davvero diventare come loro vogliamo trovare una strada diversa ti chiedo ancora una cosa perché come hai lavorato siccome molti di questi degli attori che nel film non sono attori professionisti e quindi credo sia vedrete però che cosa sono stati chiamati a fare da da kira e suppongo sia stato un lavoro ma lungo e e non sempre facile no все mi chiederia mi chiede amigos amm buon il non e poi ci sono persone che ho trovato online che ho bisogno di come in e che erano ok con essere più come un'exhibitionistica. Mi sento che ho stato molto affrontato con lo che ho aspettato da ogni actor. Quindi quando abbiamo iniziato a filmare non era un problema, perché tutti lo conosco, lo che aveva fatto, e come noi eravamo fare. ho preso il mio tempo e ho fatto sicuro che tutti erano molto contenti con ciò che avevamo per fare, quindi una volta che ci siamo filmati è davvero abbastanza semplice, ma è sorprendente cosa le persone faranno se ci chiedessero. Poi ho fatto delle vere e proprie audizioni aperte e ho anche cercato su internet persone con una tendenza spiccatamente esibizionista e che fossero disposte a fare le cose che avrei chiesto loro di fare. In questo senso sono stato estremamente sincero con tutti gli attori, dicendo in modo chiaro quello che volevo che facessero sul set, quindi in realtà non è stato un problema una volta che abbiamo cominciato a girare perché tutti loro sapevano esattamente che cosa avrebbero fatto e ho dedicato parecchio tempo prima di iniziare le riprese a metterli a loro agio. Quindi devo dire che non ci sono state particolari difficoltà da parte di nessuno, tutti sapevano cosa erano chiamati a fare. Grazie Kire, lasciamo il pubblico alla visione di The Last Porno Show. Fatevi rapire dalle stranezze e dalla grande umanità di questo film. Grazie, vi auguro.